Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Scoperta shock su Daniele Paudice, tronista di uomini e donne, alla vigilia della sua scelta. Nuove segnalazioni mettono in dubbio la sua immagine di ragazzo esemplare. Il pubblico è diviso, alcuni lo lodano per la sua personalità e attaccamento alla famiglia, altri sollevano sospetti sulla sua sincerità. Su Instagram emergono critiche verso Daniele, con alcuni che apprezzano la sua semplicità e altri che lo accusano di falsità. Un like sospetto di Daniele a una foto di Gaia datata ottobre 2023 solleva dubbi su una possibile conoscenza pregressa tra i due. La questione si infittisce quando Lorenzo Pugnaloni, riportando il dettaglio del like, alimenta le speculazioni dei fan. Molti fan sospettano che Daniele e Gaia si conoscessero già prima di uomini e donne, ipotesi rafforzata dalla loro immediata confidenza nel programma. Si scopre che Daniele potrebbe aver mentito alla produzione riguardo la sua precedente conoscenza con Gaia. Con la fine della stagione di uomini e donne imminente, Daniele è costretto a fare la sua scelta e entro il 6 maggio. Oggi ci sarà l'ultima registrazione della stagione, durante la quale Daniele dovrà finalmente rivelare la sua scelta. E tu cosa ne pensi di questa storia? Scrivilo in un commento!